I comitati antieolico dell'Appennino Tosco Emiliano si sono riuniti sabato 27 aprile 2013 a Berceto per discutere del progetto parco eolico sul crinale Passo Cisa-Passo Cirone che delimita i territori di Berceto, Corniglio e Pontremoli. La riunione si è tenuta alle 16.30 nella sala consigliare del municipio ed erano presenti oltre ai redatori, il sindaco Luigi Lucchi, i rappresentanti dei comitati dei due versanti dell'Appennino, oltre a Berceto, Zeri, Gravagna e Santadonna. Ha introdotto l'incontro che aveva uno scopo informativo il geometra Alessandro Lodi e gli ha affermato Ringraziamo il comune dell'ospitalità. Noi siamo qui per informare il pubblico del progetto di un parco eolico sul crinale Cisa-Cirone che prevede 16 generatori alti circa 170 metri. Noi la riteniamo una cosa pazzesca. Noi siamo indirettamente coinvolti poiché l'impianto sorgerebbe in terra toscana ma è a pochi metri dal confine. Noi abbiamo inviato una lettera alla regione toscana in cui mettiamo in discussione la compatibilità del progetto con l'area. Il secondo intervento è toccato l'architetto Emanuele Mazzadi che con l'ausilio di diapositive e materiale cartografico ha illustrato le intenzioni della ditta che vorrebbe realizzare l'eolico sul passo Santa Donna. Dopo aver elencato gli svantaggi a carico del territorio e dei cittadini l'architetto Emanuele Mazzadi ha dichiarato Noi non siamo pregiudizialmente contrari all'eolico ma riteniamo che questi progetti siano fuori portata per il nostro territorio. Bisogna smettere di parlare di parchi eolici. Questi sono impianti eolici industriali Un conto è produrre energia rinnovabile in maniera sostenibile Un conto è creare impianti industriali E' toccato infine al sindaco Luigi Lucchi intervenire egli ha affermato tra amministrazione comunale e cittadini di Berceto non c'è contrasto nonostante sia il comune più ventoso della provincia Noi abbiamo già mandato un parere alla regione toscana che ce lo aveva giustamente chiesto in quanto comune di confine in cui abbiamo espresso la nostra contrarietà Grazie a tutti Grazie a tutti